Amarti mi consola Abbiamo trovato anche 13 residui di pesticidi in una sola mela eppure a volte funziona meglio la lotta biologica Se il nostro sistema alimentare continua a provocare danni all'ambiente noi abbiamo scoperto dove sono finiti 400 miliardi dei sussidi europei nelle tasche di chi non ha nessun interesse a fare la rivoluzione verde Sabrina Giannini presenta Indovina chi viene a cena Sabato alle 21.20 Rai 3